Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la camera FPV e la videotrasmittente nel flatcontroller Betaflight F3. Dopo aver collegato in maniera corretta i nostri componenti saremo in grado di settare l'OSD su Betaflight in modo da visualizzare le informazioni direttamente sugli occhiali FPV. Prima di procedere ai collegamenti dobbiamo verificare le caratteristiche dei nostri componenti. Per quanto riguarda la videotrasmittente detta VTX dobbiamo verificare di quale voltaggio necessita per funzionare. Alcuni modelli come ad esempio la TBS Unify Pro hanno bisogno di un'alimentazione di 5V, altre invece come ad esempio questa necessitano di un voltaggio compreso tra i7 e i24V. Se la vostra VTX funziona a 5V in questa serie dovete punticellare i pad RAM e 5V. Se la vostra VTX funziona con un voltaggio variabile come 7 e 24V ma potete anche trovare i valori come 6 e 24V o 6 e 27V, allora dovete punticellare i pad RAM e VBAT. Facendo così viene fornito il voltaggio diretto della batteria. In questo caso fate attenzione a non collegare una batteria col voltaggio più alto di quello che la VTX può supportare. Solitamente se usate batterie 4 ma anche 5S non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda le camere FPV ormai la quasi totalità di S funziona con un voltaggio variabile che parte dai 5V fino ad arrivare ai 24V, 36V ma anche 40V. In ogni caso comunque è sempre meglio alimentarle con un voltaggio costante di 5V perché alcuni ESC con attivato l'Active Braking che sarebbero i freni attivi possono creare dei picchi di voltaggio in grado di danneggiare la camera. Adesso siamo pronti per fare tutti i collegamenti. Colleghiamo la VTX nei primi 3 pad qua sopra, il nero nel GND, il rosso nel RAM e il cavo segnale nel VOUT. Colleghiamo la camera FPV nei pad qua sotto, il nero nel GND, il rosso nei 5V e il cavo segnale qui su nel VIN. Dopo aver saldato la VTX e la CAM possiamo collegare il Fret Controller al PC per configurare l'OSD su Betaflight. Clicchiamo su connetti e andiamo in configurazione. Scorriamo verso il basso e in Outer Features attiviamo OSD, quindi salviamo. Adesso sulla sinistra è comparso il menu dell'OSD dove possiamo fare tutte le configurazioni. Nella colonna a sinistra abbiamo tutti gli elementi che possiamo visualizzare a schermo. Di default sono tutti attivati, ma possiamo cliccare qui e scegliere noi quali visualizzare, ad esempio l'RSSI e il voltaggio della batteria. Una volta selezionati possiamo prenderli e posizionarli dove preferiamo. Sulla destra abbiamo la configurazione dell'OSD dove possiamo scegliere il formato video, le unità di misura, il timer, gli allarmi e le statistiche post volo. Infine possiamo scegliere che fonte usare. Dopo aver configurato tutto possiamo salvare e uscire. Per concludere vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'OSD, per attivarlo basta mandare lo stick dell'OIA a sinistra e quello del pitch in alto. Ora che siamo all'interno del menu abbiamo accesso a tutte le impostazioni e possiamo fare tutte le modifiche che facciamo solitamente davanti al PC. Questa caratteristica è molto comoda e ci dà la possibilità di regolare le impostazioni anche quando siamo all'esterno. Questo era il mio tutorial su come collegare la camera FPV e la VTX nel flight controller Betaflight F3. Grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il 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 video.